Ha ucciso la moglie del figlio da appena 5 anni per poi tentare il suicidio lanciandosi dal bacone di casa. E' accaduto la scorsa notte in un'abitazione di Carmagnola alle porte di Torino dove i carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni. Il duplice omicidio sarebbe maturato al culmine di una lite familiare per motivi ancora ad accertare. I funerali di Teodora Casasanta, questo il nome della vittima di 39 anni e di suo figlio, saranno celebrati a Rocca Casale. Teodora tornava spesso nel paese abruzzese di cui era originaria dove vive la famiglia. La madre e il fratello sono partiti per il Piemonte per il triste compito del riconoscimento della salma. Il padre di Teodora è morto alcuni anni fa. Costernazione in paese per la tragedia ed immenso il dolore del vice sindaco Agostino Di Simone per la perdita della nipote. Non è stata ancora fissata la data del rito funebre. Nello stesso giorno sarà proclamato il lutto cittadino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.